Le promesse sono promesse e io non ho promesso nulla effettivamente, vi avevo semplicemente chiesto nell'ultimo episodio della Superlega vi andrebbe se portassi una classifica dei gol più belli? E voi avete risposto con enfasi non indifferente, quindi mettetevi comodi perché in questo video vi mostrerò la mia classifica dei 10 gol più belli fatti o subiti della Superlega di FIFA 20 Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video Allora già sapete di cosa si tratta perché avete letto il titolo, avete visto la copertina, avete ascoltato le mie parole di qualche istante fa se non avete fatto neanche una di queste tre cose, complimenti, cioè è impossibile ma complimenti Comunque prima di partire io vi invito subito a scrivermi qui sotto, cioè dopo aver visto il video naturalmente se siete d'accordo con la mia classifica, perché potreste anche non esserlo se invece siete d'accordo, e anche se non lo siete, lasciate comunque un like di supporto per questo video vi dico già che il prossimo ad uscire sarà il racconto della carriera di Nicola, la Juve Stabia quindi il racconto delle vostre carriere, ultimo episodio di FIFA 20 perché poi passeremo a FIFA 21 visto che sta per uscire e tutto il resto, quindi rimanete sintonizzati per farlo ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram E a proposito di aggiornamenti, prima di partire, questa è una notizia che vi do in anteprima o meglio, è la prima volta ufficiale che lo dico in un video, il 17 ottobre qui sul mio canale uscirà il derby degli youtuber tra Milan ed Inter, o meglio tra Inter e Milan perché il derby vede in casa da sorteggio inerazzurri, almeno per il derby d'andata ovviamente l'evento ci sarà per quanto riguarda la registrazione e la partita tra youtuber interisti e milanisti, però a porte chiuse per una serie di motivi in particolar modo di Covid, quindi era la scelta più saggia per il momento facciamo così e poi vedremo per il derby di Roma di gennaio, per il derby di ritorno Milan-Inter e chiaramente anche Roma-Lazio, insomma vedremo un po', vi aggiornerò come sempre Adesso però non vi rubo altro tempo, vi lascio alle clip, noi ci vediamo alla fine del video quindi buon divertimento! Attenzione perché fanno cose strane ed efficaci, c'è ancora Casemiro all'indietro Lucas Leiva, Pellegrini, benissimo e contropiede con Aguero Sta andando Gnabry, arriva anche a destra come un treno a ribo che però è stanchissimo, quindi aiutiamolo ma intanto corre in 17, corre dentro c'è Gnabry, in area Gnabry! 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 Tre volte! 3 a 2! Rimonta completata! A 20 dalla fine! Lingard per Messi che è a campo andrà da immobile probabilmente, ecco il pallone poi l'inserimento da parte di Lingard 4 a 2 4 a 2 E' il gol che sentenzia i Rangers prima sconfitta anche in campionato Di bala in zona pericolosa vuole il mancino, non lo libera riesce a trovare ancora Aguero poi Kent mette il cross per Gnabry! Azione meravigliosa dei Rangers e Gnabry ribalta la partita 2 a 1 col gol dell'undici al centro Morelos visto e servito bisogna gestirla bene questa Morelos è terza mette a sedere l'avversario e poi calcia! Un gol meraviglioso! La doppietta del Buffalo 2 a 0 Rangers 37 minuti di Morelos perché il primo gol è semplice un po' come quello segnato contro lo United il suo primo all'epoca in Superlega di sponda ancora per arrivo siamo usciti bene parte Semedo Pellegrini dovrebbe trovare Vidal in qualche modo si e quindi di bala c'è dentro Pellegrini pallone per lui tocco sotto e gol meraviglioso di Lorenzo Pellegrini che fa 1 a 1 esplode e i Brox Stadium hanno pareggiato i Rangers gol non so quanto meritato ma cercato e voluto da due partite perché anche in Supercoffa nel finale avevamo creato tanto Pellegrini dalla panchina con classe qualità il motivo per cui l'abbiamo preso a ribo di nuovo per Tierni che prova a salire sulla corsia al centro Gnabry è completamente solo Tierni prova il cross per Gnabry che arriva in corsa e segna un gol pesantissimo pesantissimo per il 3 a 1 di nuovo più 2 mamma mia ragazzi che peso che ci siamo tolti e che gol di Sergei Gnabry il secondo pazzesco di fila Quadrado prova subito a mettere la quinta deve rincorrerlo in segne che però non può staccarsi così tanto in teoria c'è Tierni che però sta passeggiando pallone dietro con Van Dijk che ha chiuso Tierni la perde senza fallo naturalmente sono cose già viste a memoria proprio conosciamo a memoria a minuti segneranno ve lo spoiler arriva la palla sul secondo palo se meto malissimo e Matuidi fa il gol dell'anno bellissimo che bel gioco ovviamente 1 a 0 Juve ma oggi non ci sto oggi non ci sto per niente i Rangers vogliono ripartire con Di Bala va dentro il Kun Gnabry lo vede e lo fa viaggiare Hernandez su di lui Agüero con il destro torna dall'infortunio e spacca la porta per il vantaggio dei Rangers 1 a 0 in casa dei Red Devils con un grandissimo gol di Sergio Agüero come un derby per lui botta pazzesca sulla quale Donnarumma non può far nulla e passiamo in vantaggio a noi qui se Medo mette fuori bene per Gnabry che la mette giù e può condurre il contropiede con Agüero che parte senza palla con Gnabry velocissimo con il Celtic che non segue è partito Gnabry che punta Forster Gnabry mamma mia un gol straordinario straordinario di Gnabry minuto 11 2 a 0 notte fonda per il Celtic e Ibrox è in estasi totale azione personale di Gnabry che si è fatto tutto il campo e poi ha messo sotto l'incrocio dei pali 2 a 0 Moscardelli cerca dentro il pallone chi per me ha chiuso la palla ovviamente gli resta sempre lì ci ha segnato Moscardelli ci ha segnato Moscardelli alla Del Piero ci ha segnato Moscardelli alla Del Piero cioè va bene 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 questa era la classifica secondo me ovviamente il mio non parere soggettivo quindi come vi ho detto all'inizio del video fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete d'accordo o meno con questa classifica l'appuntamento vi ricordo è a venerdì o sabato ma vi farò sapere su Instagram con il prossimo video e poi vi ricordo che domenica sera andremo in live se si dovesse giocare con Juventus Napoli e lunedì usciranno gli highlights sul canale per il momento vi saluto vi mando un bacione never give up e alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.